Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domenica nell'area tra Piazza Bocca della Verità, Piazza Venezia, Il Colosseo e Il Circo Massimo è in programma l'edizione numero 25 della Common Race for the Cure, iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori del seno. Per quel che riguarda la viabilità, domenica dalla mattina e sino alle 15 e 30 sono previste temporanee, chiusure al traffico e modifiche per 36 linee del trasporto pubblico tra bus